Buongiorno a tutti, siamo in compagnia di Alberto Poli, Automation Manager di Vago Italia. Buongiorno Alberto. Buongiorno Stefano, buongiorno. Siamo qua con lei perché la vostra azienda sarà una delle protagoniste del prossimo SPS Italia che si terrà a Parma dal 28 al 30 di maggio. Vogliamo subito scoprire con lei quali sono le novità e le soluzioni che presenterete in fiera. Certo, volentieri. Beh, innanzitutto iniziamo ricordando di che cosa ci occupiamo. Noi ci occupiamo di tre grossi settori, si tratta di connessioni elettriche, di interfacce elettroniche, comprese l'alimentazione. Questi due settori dove avremo delle novità, avremo sicuramente la presentazione delle gamme. Io mi occupo personalmente dell'automazione, sull'automazione ci saranno dei punti salienti. Innanzitutto, parlando di componenti, avremo dei nuovi controllori, stiamo espandendo la gamma dei controllori con un nuovo dual core A53, ma d'altra parte stiamo, e abbiamo appena rivisitato la gamma anche degli entry level, quindi presenteremo i nuovi entry level, la gamma dei modulari che sta andando verso l'alto, fino ad arrivare a un edge controller con Cortex A9. Ci tengo a precisare, a ricordare che tutto ciò garantendo quello che è un po' il nostro core, o uno dei nostri core, che è la connettività, una delle nostre competenze, diciamo, principali. Quindi da una parte garantiamo su tutta la gamma la connettività industriale, cito Ethernet-P, MOVBUS, PROFINET. Dall'altra parte la connettività magari più legata alla fabbrica verticale, alla connettività verso l'esterno, che può essere OPCYMQTT. Quindi non dimentichiamo, questo un po' da tempo, la presenza di suite di sicurezza, VPN, quindi parliamo di VPN, e in generale di firewall e di sicurezza integrata. Stiamo spingendo sul tema anche della scrittura di software, al di là del puro software per automazione, o meglio dire del software classico di automazione, parlando di estendibilità appunto di questa tramite la piattaforma Docker, che oramai è presente su tutti i controllori basati Linux, quindi su tutta la gamma dei controllori medio-alti, che permette l'integrabilità di tool esterni come potrebbero essere Node-RED. Dall'altra parte ricordo anche che non siamo costruttori solamente di componenti, ma anche di soluzioni, soluzioni che ci portano in applicazioni, rimanendo magari nell'ambito della fabbrica, soluzioni in campo energetico. Quindi non solo la misura, strettamente la misura, ma soluzioni complete per il monitoring energetico, che sarà un tema portante di questa fiera, sarà l'implementazione del Control X OS su gamma di controllori vago, che ci permetterà, e questo vorremmo mostrarlo a chi ci verrà a trovare, l'apertura del software permessa da Control X, ma questo appunto lo faremo vedere a chi vorrà venirci a trovare. Allora, tanta carne al fuoco, tante novità, tante anticipazioni legate proprio a quello che sarà il momento topico dell'evento di fine maggio, quindi non ci resta altro che invitare le persone a presentarsi presso il vostro stand per vedere queste novità, a me non resta che salutarla e ringraziarla per la sua disponibilità. Buona giornata e buon lavoro. Grazie mille a lei, arrivederci Stefano.